Isola! Isola! Abbiamo trovato il pesciolino per domani mattina. Questo è uno dei peschieri più caratteristiche della Cina, lui è un persona molto eclettica. Noi veniamo qui. Noi qua ci abbiamo portato tutti quanti da qui, non andiamo avanti a più. Non sapevo. Vedo la fish hand adesso. Guarda, fate come se stare a casa vostra. La schiama è un vino molto eclettico, possiamo colpidare con tutto quanto. E sinceramente anche col pesce trudo. E' allora? Adesso andiamo alla pizzeria del poeta, lo vipsti uo pizza, dice se sono di Omar o la pizza Adesso andiamo a Capri e poi ci sono un plazzo per il nostro Schazzo e andare in Caltracea, in Capri